La SoFood è un'azienda nata tre anni fa con l'intento di creare un prodotto, una barretta energetica o proteica che andasse bene al più ampio numero di persone, quindi cerchiamo di abbattere le problematiche alimentari creando un prodotto adatto sia a vegani, che a persone intolleranti al lattosio, sia a problematiche come la celiachia o il diabete. E dalle barrette ci siamo poi ampliati anche a tutta una linea di creme o di musli per integrazioni secondarie. Perché avete deciso di partecipare ad Agora in particolare come sponsor tecnico? Abbiamo deciso di partecipare ad Agora innanzitutto perché è un momento di networking ed è utile per noi che siamo giovani sul mercato farci conoscere. In più i nostri prodotti possono essere consumati non solo in ambito sportivo ma nel quotidiano e quindi volevamo presentare a tutto un mondo di lavoratori anche una soluzione pratica ed efficace ma soprattutto salutare da appunto consumare durante metà mattina, metà pomeriggio quando sono di fretta. Cosa vi aspettate da questa giornata? Sicuramente ci aspettiamo tanti begli incontri positivi e far conoscere il nostro brand e la nostra realtà e conoscere quelli che possono essere poi i nostri futuri partner e collaboratori. Grazie per la visione!